Bambini autistici senza terapisti e la giustizia a venire in soccorso dei diritti loro negati. Il Tribunale di Lago Negro infatti si è pronunciato sul ricorso presentato dai genitori di un bambino autistico nei confronti del piano sociale di zona S9 del comune di Sapri, quale ente capofila, per la mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica scolastica di 15 ore settimanali stabilito nel piano educativo individualizzato per il minore. Il Presidio di Giustizia ha ritenuto legittima la richiesta dei genitori e condannato il comune di Sapri al pagamento delle spese dei processi di giudizio sostenuti sulla vicenda, liquidate in oltre 2.700 euro più imposte al 15%, ritenendo che il mancato riconoscimento della specialistica fosse una condotta discriminatoria rispetto all'offerta formativa riservata agli alunni normodotati che non ha subito una riduzione corrispondente. Una comunità civile è il commento di Sapri Democratica che costringe i cittadini a lottare contro l'irresponsabilità sociale e civile delle istituzioni coinvolte a vario titolo. Speriamo che mai più un genitore debba rivolgersi ad un tribunale per ottenere la tutela dei sacrosanti diritti dei propri figli. Né questo è l'unico ostacolo a cui debbono far fronte le famiglie con bambini autistici del Golfo di Policastro. Da almeno due anni infatti pesa su di loro e soprattutto sui loro figli l'assenza presso il distretto Sapri Camerota della figura del neuropsichiatra infantile che definisce con regolarità, adattandoli alle circostanze, le terapie e i piani di cura individuali.